Vorrei chiedervi un regalo, vorrei chiedervi un feedback, sincero, di questo corso. Delico? Sì, allora, non ti vedo più. Allora, intanto, complimenti a Roberto per la sua professionalità, perché nella tua semplicità comunque ci hai fatto capire bene le cose. E anche se dovesse finire oggi, mi ricorderò positivamente di te, soprattutto per i wow, wow, e alzo la mano, alzo la mano. Quindi questa è una cosa proprio che rimane. E poi, no, da profano aver conosciuto quel sistema che ci hai mostrato con le mail, mi piace parecchio. Anche perché non ti nascondo che nel passato ci avevo provato anch'io a far semplicemente magari dei fogli di promozione così e già averlo mandato a parecchie persone per mail. Però invii la mail e dopo stai lì a guardare il telefono nella speranza che ti chiami. Non sai chi l'ha aperta, non sai se è interessante e non è mai successo niente. Cioè nessuno più ha risposto. Invece con il tuo sistema che ci hai proposto si vede proprio quotidianamente chi entra, chi non entra, chi si cancella e quindi puoi seguire. E dovrebbe essere un passaggio più facile. Quello che mi piacerebbe appurare ancora di più è quella scaletta ABCD e soprattutto con te e anche con l'azienda Contral trovare proprio una soluzione per passare da quel gradino B e C che credo sia a livello di vendita la nostra difficoltà. Cioè avere già qualcosa da proporre per passare al C molto più, saltare più facilmente su quel gradino B. Ci lavoreremo. Ecco. E grazie ancora. Grazie a te del feedback.